Calisto Soccamiar, manager del Forlì Allora ci racconti un po' questa serata La terza è stata una partita combattuta Poi decisa da Delevali all'inizio e poi avete difeso Ma nella quarta poi è successo un po' l'incredibile che nessuno si aspettava È reale questa cosa La quarta partita non me l'aspettavo così Sicuramente nessuno si aspettava una partita così Con un punteggio elevato contro un lanciatore di quel livello Sì, la terza partita abbiamo più o meno immaginato Molto equilibrata So se incontravano le due migliori lanciatrici italiane Quindi, però, guarda, abbiamo stato molto affortunato noi E così funziona C'è stato un episodio che secondo te ha deciso la serata? Secondo me la cosa che ha deciso la serata è stata la convinzione delle ragazze A vincere le partite Ma abbiamo creduto Anche se la seconda partita fu lì Non è andata bene Abbiamo creduto un'altra volta Non offre L'abbiamo messo a lanciare Quindi, secondo me la convinzione è di vincere la partita Il campionato Alla prossima